Buonasera, benvenuti a tutti all'appuntamento di Sprint2U dedicato ai grandi protagonisti dell'atletica. Questa sera due ospiti, uno graditissimo che ritorna nelle vesti di tecnico ma anche di padre e una giovanissima promessa dell'atletica italiana, fresca vincitrice del titolo juniores nel salto triplo, benvenuti a Fabrizio e Greta Donato. Ciao! Ciao! Questa è una premessa un po' più faticosa delle altre volte perché mi sono un po' impapinato. Comunque, vabbè, benvenuto a Fabrizio che ritorna e benvenuto a Greta. Fabrizio che avevo intervistato un paio di mesi fa, devo dire che insieme a Andy Diaz, che è l'atleta cubano, che è ormai cittadino italiano, mi fa molto piacere poter commentare, insomma, ai tempi ridendo, avevi detto, l'avevo tarato in modo tale che non arrivasse a una certa misura. Invece chiedo scusa a Greta, volevo un attimino parlare prima con Fabrizio di Andy e delle sue condizioni di salute. Come stai innanzitutto? So che aveva avuto un piccolo problema. Allora, intanto grazie a te per l'invito, è sempre un piacere scambiare quattro chiacchiere con te e con potuti, ovviamente, quindi grazie, grazie a te. Allora, come stai? Andy sta molto bene e, ahimè, abbiamo deciso in Comune Accordo di rinunciare alla tappa dell'Ariamo League di Monte Carlo e preservarci per i campionati italiani, molto bene, che ci saranno nel prossimo obiettivo. Questo perché? Perché sappiamo bene che il tribo è una specificità molto traumatica. Sembra uno strano, ma Andy intiene particolarmente al titolo italiano e quindi abbiamo pensato, in Comune Accordo, di preservare le tagline, di preservare i suoi distretti muscolari per far sì che il mostrato non possa arrivare tra i migliori condizioni di possibile. Quindi siamo molto bene e non vedrò di gareggiare i campionati italiani. Ecco, non so perché ogni tanto la tua voce è un po' metallica, ogni tanto no. Puoi provare soltanto un attimo a parlare, Greta, per vedere se sono un problema di tu. Mi senti? A te perfettamente. A te ogni tanto diventa un po' metallica la voce. No, si è capito, però vabbè. Prova a parlare? Sì, ecco. Sì, sì, perfetto. No, no, va bene, va bene. Allora, ci tengo giusto a dire che quando questa trasmissione andrà in onda i campionati italiani ci saranno già stati per problemi di programmazione, però insomma poco importa, insomma. Quello che sarà il risultato, che è abbastanza prevedibile, comunque poco importa. Insomma, comunque l'importante è che Andy stia bene, abbia soltanto rinunciato alla Diamond per un motivo precauzionale, quindi confermi che ci saranno gli italiani sicuramente e quindi è in ottima condizione, non c'è nessun problema, in ottima condizione. Tra l'altro, chiaramente lui non potrà fare i mondiali. Quali sono, dopo gli italiani, i vostri obiettivi? Beh, allora, sì, non potrà partecipare anche alle mondiali perché la sua legge dirà chiaramente per un po' di stati nazionali. Giustamente, e gli obiettivi sono dell'imminente quindi i campionati italiani e poi successivamente la diamo lì. Ovviamente noi avevamo già pensato in questa stagione prima di conoscere il verdetto della World Athletics, che comunque sia il nostro pensiero, la nostra idea era quella di difendere il titolo della Diamond League. Quest'anno la finale sarà Eugene, a settembre, e quindi il nostro percorso continua verso la Diamond League, passando dalla tappa cinese di Shanghai. Ah, ok, perdonami. Quindi, dopo gli italiani, ci sono ancora Diamond League oppure no? Sì, sì, Shanghai e poi la finale di Eugene. Sì, sì, certo, la finale di Eugene, certo, ma non mi ricordavo quale tappa ci fosse prima dei mondiali perché poi chiaramente con i mondiali si interrompe. Quindi c'è una tappa a Shanghai, ok, che data? Il 2 settembre, mi ricordo. Ah, ok, ah, quindi subito dopo i mondiali, ah, quindi appunto, diciamo, dopo gli italiani comunque dovrebbe essere la prima tappa su quello dei mondiali. No, no, di fatto è quello che pensavo. Diciamo, dopo il 30 luglio non ci sono più Diamond League fino a dopo i mondiali, certo, assolutamente. Senti, soltanto un piccolo commento sul record italiano. anche se è passato un po' di tempo, quali sono state le emozioni che hai provato dentro. Cioè, sicuramente solo emozione è grande gioia, giusto? Al di là che se l'abbia tolto. No, no, certo. No, noi scherziamo, scherzavamo anche sul fatto che il record sarebbe rimasto a nera, avrei lanato a 1759, ma ovviamente scherzavamo. È una grande gioia, sono felicissimo, anzi, è stato il caso di dire che finalmente arriva un pacco il maestro. E quindi va bene così. È saltato un attimo il collegamento, adesso tra un attimo... Scusa, ma arrivo a una chiamata, ma arrivo a una chiamata purtroppo. No, dicevo, sono felicissimo che il titolo quindi sia nelle sue mani adesso, anche perché come dicevo, l'allievo batte il maestro finalmente. E poi a fine il titolo rimane sempre a casa mia, perché Andy è residente a casa mia e quindi sempre a casa mia. Infatti, senti, un'ultimissima domanda, poi ci dedichiamo totalmente a Greta. Anche se, come ho detto prima, i campionati italiani chiaramente quando vedranno questa intervista saranno già stati fatti, un bellissimo campionato italiano comunque nel triplo. In teoria ci sono assolutamente tutti, giusto? Teoricamente ci sono tutti, non conosco bene le condizioni di tutti, perché poi il 6 milioni di me che il triplo, come dicevamo prima, è molto particolare, è traumatico e purtroppo le problematiche sono di conalco. Però ad oggi so che sono tutti confermati, ci siamo tutti, quindi ci saranno gli emersi, ci saranno Bocchi, i Danavante, tutti i migliori artisti italiani. Quindi sarà sicuramente un grande spettacolo. Una bellissima sfida. Perfetto, senti, allora, dai, dedichiamoci come giustamente deve essere a Greta. Allora, Greta, hai vinto il tuo primo titolo italiano, non mi ricordo se è domenica o sabato. Domenica, domenica. Domenica, domenica. Senti, titolo italiano juniores, tu sei, in realtà tu hai solo 17 anni, però diciamo per la logica sei nata a novembre, primo novembre, quindi praticamente sei al primo anno juniores, forse la più giovane delle juniores, perché voglio dire, quasi più di così non può essere, in una specialità, vabbè, chiaramente ti è molto cara, ma però in pratica hai cominciato a fare soltanto quest'anno, perché fino all'anno scorso ti dedicavi a lungo. Esatto. Cioè era qualcosa in programma oppure è venuto per caso? Allora, diciamo che l'idea di provare un giorno a fare il triplo c'è sempre stata, però andavamo molto tranquilli perché un po' non voleva farmelo fare, perché sapeva che più inizi tardi è meglio essere, soprattutto in questa disciplina. Poi a un CDS a settembre scorso c'era, bisognava coprire la gara, quindi abbiamo detto proviamo, buttiamoci in mezzo e abbiamo fatto un buon risultato. Poi lo abbiamo totalmente, diciamo, abbandonato e ripreso all'indoor, dove abbiamo fatto una gara e siamo andati direttamente agli italiani e sono arrivata terza, quindi diciamo un buon risultato. Poi invece, finiti all'indoor, ne abbiamo iniziato ad annacci di più sul triplo e alla fine ce l'abbiamo fatta, diciamo. È venuto questo grandissimo risultato, ricordo 13,13, insomma, ti sei migliorata di 65 cm rispetto al tuo precedente limite, che è una grande cosa ma può essere anche un piccolo problema, nel senso che, come dire, hai alzato un po' l'asticella, lo dico non per sminuire il tuo risultato, figurati. Diciamo che avevi le condizioni ideali, 20 più 2.0. Quindi, adesso spero che la prossima gara, in cui magari farai 12.70, non si dirà, perché poi il giornalista guarda solo il risultato. E quindi, diciamo, hai ottenuto un grandissimo risultato, che è insomma 13,13, tanta roba, ma chiaramente questo non vuol dire che se la prossima volta farai un po' di meno, dovrà essere visto come una delusione. Tu cosa ne pensi, Fabrizio, di questo risultato? Te l'aspettavi? È andato un po' oltre le tue aspettative? Allora, faccio una piccola premessa. Perché Greta ha iniziato così tanto a fare di tanto tipo? È stata una mia scelta, appunto, perché mi entriamo lì, anzi, giustamente le nostre scelte, se non c'è sempre la scelta della famiglia. E questo perché? Perché tenevo molto a preservare Greta, ma sia sull'entimità fisica, perché è un po' di qualche... Fabrizio, scusa se ti interrompo. Forse se guardi verso Greta si sente meglio. Non so perché quando... Non proprio così, però se ti avvicini un po' più a lei... Ok, va bene. Meglio? Perfetto. Non vorrei che la cuffietta di destra di Greta abbia il microfono e la mia non l'abbia. Non lo so, questo... Perché abbiamo due cuffie, ovviamente. No, no, ma ti si sente, solo che non so perché, se ti smuovi leggerissimamente, anche di pochi centimetri... Forse si scollovano un po'. Ok, infatti. Quindi, come dicevo, la scelta di ritardare così il risorio di Greta è per preservare fondamentalmente Greta, sia su un suo aspetto fisico che mentale. Perché questo? Perché io capisco benissimo che voi non voi che a Greta abbia un cognome particolare, adesso non voglio dire... E quindi l'idea di avere un trauma, perché lei si chiama Donato e nel Salto Trego aveva un po' ancora questa mente. E quindi ho aspettato, ho aspettato il momento giusto, ho aspettato che lei fosse pronta, ho aspettato che lei fosse matura, ho aspettato che lei fosse anche... Ma neanche competitiva, perché qui non si tratta di essere competitivi, ma si tratta di essere pronti ad affrontare nel bene o nel male il Salto Trego. E' quello che ne circonda, soprattutto. E così abbiamo fatto. L'abbiamo sempre allenato, abbiamo sempre più o meno addestrato il balzo, ma... Greta aveva bisogno di tempo per crescere, aveva bisogno di tempo per metabolizzare i balzi, il Salto Trego. Poi quando mi sono reso conto che lei ormai era abbastanza pronta, che poteva sopportare, sopportare ovviamente i balzi e tutto quello che lo circondava, abbiamo deciso di avvicinarci anche a questa specialità. Ma è un percorso di crescita, è un percorso che secondo me dovrebbero fare un po' tutti, poi al di là di accogliono propriamente, prima di affrontare alcune specialità un po' più difficili, un po' più intramatiche. Me l'aspettavo in parte sì, Greta sta crescendo, Greta è maturata molto nell'ultimo periodo, da quest'inverno ad oggi fondamentalmente ci siamo un po' più specializzati, sembrerà strano che a 17 anni si parla di specializzazione, ma invece è quello che io penso. Io penso che la specializzazione in Italia forse è un po' anticipata e il suo percorso è stato particolare, è stato diverso. Greta è stata condivisa con altri tecnici di altre specialità, proprio per far sì che lei potesse sviluppare tutte quelle capacità naturali che un bambino, che un atleta, che un ragazzo debba sviluppare. Qui parliamo di capacità motorica, quindi è iniziato con gli ostacoli, le andosi con Veronica Borsi, che ovviamente ringrazio, passando da Luca Minicoci, tecnico di velocità delle chiamme gialle, con il quale la condividevo, tanto è vero che nel primo periodo, nei primi anni di Greta, Greta si allenava tre volte a settimana con Luca nella velocità e una volta a settimana con me, dove io mi occupavo solo dalla parte tecnica, non allenavo nient'altro, io ho insegnato, sai benissimo che c'è una grande differenza tra allenare e insegnare, questa cosa mi preme molto, perché oggi tutti allenano, ma poi pochissimi insegnano, e la cosa che più mi premeva era insegnare a Greta dei chiesti tecnici, che potessero essere tecnica di corsa, tecnica di salto o tecnica di solenamento pesi, questa è la base che ho avuto, e così ho fatto. Poi con il passare degli anni questa condivisione è sempre stata più sottile, fino a quando fondamentalmente da quest'anno, Greta si allena solamente con me. Da questo inverno, come diceva Greta, ci dedichiamo principalmente al tribo, non tralasciando ovviamente la velocità e il lungo, ovviamente, e quindi i sultati si sono visti. Mi aspettavo questo miglioramento, forse non così tanto, onestamente, poi come giustamente hai detto tu, c'erano delle condizioni particolari a Grosseto, ma ovviamente ce ne erano per lei, ma come ce ne erano anche per i tuoi avversari, ovviamente, e quindi complice una superpedana, perché chiaramente la pista, la pesta di Grosseto è una superpedana, complice un po' di vento a favore, Greta ha fatto un grandissimo risultato. Poi lei, per la verità, che evidentemente è impostata veramente bene e ha saputo sfruttare le migliori condizioni possibili. No, assolutamente, di fatti io non mettevo minimamente in discussione la vittoria, cioè diciamo, la misura è una misura importante, perché superare tre... Siamo consapevoli e siamo lucidi. Assolutamente, cioè una misura importante oltretutto al primo anno in cui si fa questa specialità, parliamoci chiaro. Sì, forse sei sempre cari che hai fatto nella sua vita ormai, non lo so, per sicuramente. Come se contano a solo punto delle vita. Senti, quindi possiamo dire abbastanza ufficialmente che la specialità del futuro di Greta sarà il triplo? Ne salti. I salti. Diciamo che l'idea è quella di Garigiero, di Greta e di Giuseppe nel triplo e poi nella seconda parte di stagione fare qualche gara di salto in lungo, perché penso che lei possa migliore ancora per qualche salto in lungo, non è ancora espressa al massimo, e qualche gara sui duecento, perché a questa comincia di fare qualche duecento. Senti, Greta, ma a te di fatto cos'è che piace di più? Cioè, qual è la specialità che ti piace di più? Ad oggi il triplo. Purtroppo questa cosa lo sa anche per in pochi. A casa nostra funziona al contrario. Io e mia moglie vorremmo fare un passo in tempo con il triplo e lei spingi per fare il salto in lungo, quindi la maggior parte la gente pensa al contrario, pensa che sono io che spingo quel tipo. No, è il contrario. No, no, beh, anche perché insomma Greta è veramente cresciuta a pane triplo, diciamo, no? Beh, sì. Cioè, sempre stata presente nelle tue occasioni più importanti. Infatti, io penso che poi, considerando che anche la memoria visiva ha un ruolo fondamentale dello sport e ha maggior ragione una specificità tecnica come il salto in lungo, io ho anche questo, mi piacerebbe parlare con qualcuno che ne sape di me ovviamente su questo argomento, che se anche la sua memoria visiva da zero a diciassett'anni probabilmente ha fatto il suo percorso, perché lei lo senta di tutti i giorni, da zero a, io ho smesso da due anni, a quindici anni, saltare, balzare, è capace che la sua memoria abbia memorizzato alcuni movimenti che poi gli ha insegnato ovviamente a saltare, è chiaro, è ovvio, però probabilmente anche questa memoria, chiamiamo la memoria visiva, è memoria di magazzinare, movimenti visti e abitudini dal padre, in questo caso, probabilmente ha fatto il suo percorso. Assolutamente, io poi oltretutto so che Greta ti veniva sempre, praticamente sempre, andavi sempre a vederlo, no? Agli allenamenti. Agli allenamenti, sì, agli allenamenti sempre. Infatti, quindi c'è proprio, è nata questa passione istintiva dentro. Senti, va bene, ricordiamo anche tua madre, grande ex specialista di 400 metri, cosa ne pensa tua madre di questa cosa? Contenta? Sì, sì, è contenta. Patrizia Spuri, scusate, non l'ho detto. Sì, mamma Patrizia, spera che un giorno farò i 400, ma non penso. Secondo me è un po' più traumatico fare i 400 che il triplo. Sì, secondo me è meglio il triplo dei 400. Ma non c'è dubbio. Senti, quanti allenamenti, cioè non adesso, chiaramente, che è una fase di gare, in questa stagione invernale quanti allenamenti faceva Greta? 5-6 a settimana, quindi dipende dai giorni, dalle settimane, poi ovviamente Greta è impegnata con lo studio e quindi la priorità ovviamente ce l'ha allo studio, questo che sia chiaro, ma è sempre stato così da quando è la piccolita e quindi dipende molto dallo studio, dai suoi impegni, ma comunque 5, qualche volta anche 6, ma non è la legge. Quindi chiaramente non siamo assolutamente ancora a pieno regime perché è giusto fare una formazione graduale. Senti Greta, mi piace raccontare anche quello che fa un atleta nella vita, che cosa studi? Io sono al quarto anno del liceo classico, l'anno prossimo avrò la maturità. Accidenti, quindi non proprio un liceo semplice. Ai miei tempi, quando l'ho fatto io, c'era la quarta e quinta gennaio, prima e seconda e terza classico, invece adesso c'è dalla prima alla quinta, giusto? Sì. Ok, quindi l'anno prossimo la maturità, cavolo, sarà un anno particolarmente impegnativo. Poi hai già un'idea di cosa ti piacerebbe fare? No, non ho veramente idee. Sicuramente continuerò a studiare e andrò all'università, però non so bene ancora in che materia. Ok, senti, i vostri prossimi impegni, cioè i tuoi prossimi impegni agonistici, quali saranno? Ah, i campionati europei under 20. I campionati europei under 20 a Gerusalemme, dal 7 al 12 agosto. Ah, ok, quindi dal 7 al 12 agosto, perfetto, quindi più o meno l'intervista la manderemo in onda, più o meno in quel periodo, speriamo, diciamo, porti buono, insomma. Dai, con Andy è andata bene, quindi, insomma, generalmente, adesso non voglio dire, perché giustamente gli atleti sono scaramantici, però, insomma, generalmente chi intervisto, poi, insomma, vi dico solo che ho intervistato Elena Carrare, è andata in Diamond League, ha vinto gli europei under 23. Insomma, c'è Enrica Saraceni oggi ha fatto un grande risultato, ma generalmente non va male. Quindi, insomma, un impegno importante. Come, a livello, diciamo, di posizione, come tempi di, tempi, scusa, misura di iscrizioni, come è messa per gli europei under 20? Ma, onestamente, conosco questo mondo poco, perché mi sono, guardo sempre dei grandi, però mi sono proiettato in questo mondo nuovo, anche per me, perché mai nella mia vita, poi nel mio ultimo ventennio, mi sono occupato di l'edegoria di un'idea giovedì. Quindi ho dato un piccolo sguardo, beh, è chiaro che in Europa ci sono atleti che è stato di più di grande, ovviamente, ma non siamo messi malissimi, mi sembra che siamo a metà classifica, diciamo così. Sia te? A metà classifica, diciamo, a metà, a metà, non siamo lontanissimi, non siamo lontanissimi dai primi, perché comunque, quel poco che ho visto, forse la media europea ha 13,40, 13,50, adesso non lo so bene, perché aspettiamo, aspettiamo che escono le estate liste. Però io penso che ci possiamo divertire comunque sia. Beh, assolutamente, anche perché credo, Greta, che il tuo obiettivo fondamentale sia quello di fare esperienza. Un grande palcoscenico internazionale, di fronte ad atlete, come ho detto prima, di almeno un anno più di te e anche un po' di più, perché tu sei, ripeto, hai ancora 17 anni e quindi sono tutte atlete di 18-19, però per la logica dell'anno tu sei del 2005, quindi insomma, sarai uno dei più giovani. quindi credo che potrai andare con la massima serenità per fare esperienza e divertirti, come ha detto tuo padre. Invece dopo, vacanza oppure, no, beh, forse continuare a gareggiare, societari, quali sono gli appuntamenti successivi? Sì, dopo ci continuiamo ad allenare, gare su lungo, anche a velocità, e poi non li so bene, in realtà, mi impegno. Poi noi viviamo tutto molto, decidiamo all'ultimo momento. Senti, mi sembra che, non mi ricordo benissimo, tu hai un'altra figlia o figlio? se non sbaglio. Un'altra figlia? Ah, ok, che ha qua? È piccolina, ha 8 anni, quindi è ancora più, c'è tempo. Certo, vabbè, come vive? Anche lei vive un po' di pane triplo oppure è più disinteressata? Ancora, no, un po' più disinteressata, non lo so, lei è diversa da Greta. Greta era più curiosa, era più presente, lei un po' meno, ho questa impressione. Poi ripeto, è piccolina ancora, quindi è presto, però l'impressione è questa. Senti, Greta, quali sono i tuoi sogni, diciamo, per il futuro? Futuro non infinito, insomma, diciamo, per i prossimi 2-3 anni, dai. Cioè, che obiettivi ti sei posta? E sicuramente quello di, cioè, continuare sicuramente a fare l'atletica e magari anche ad un livello alto, si spera. E sicuramente un giorno sperare di fare qualche grande gara come Demon League, non so, anche seguire i passi di Andy e di papà, soprattutto. Beh, dai, mi sembra che, insomma, sei già avviata molto bene, insomma, cioè, giustamente bisogna sempre muoversi con i piedi di piombo, però, insomma, non mi sembra un obiettivo così irraggiungibile, insomma. Anche perché, insomma, per riuscire ad andare in Dea Mollitti, ma anche a un metro, insomma, poi non è così. Considerando che dal febbraio a luglio è migliorato un metro e trenta centimetri, anche i sei mesi, che fa? Beh, anche perché, diciamo che, vabbè, a parte due o tre, vabbè, diciamo, sudamericane, no? Vabbè, a parte la Rochas, però, insomma, altre due o tre, insomma, la quota di eccellenza del triplo femminile, possiamo dire che tra i... Insomma, quando cominci a saltare sui 14-20, 14-30, 14-50, già è tanta roba, insomma, quindi, insomma, non sono neanche degli obiettivi così irraggiungibili, anzi, insomma. Senti, a livello di, insomma, comunque i margini sono ampi, nel senso che a livello di tecnica immagino che ci sia ancora molto su cui lavorare, giusto? No, io direi invece che più di tecnica, perché lei, devo dire la verità, forse è l'unica creditorista che sta a saltare, adesso non ne voglio le altre, ma lei è una tecnica particolare, è una tecnica unica, in pochi ammollo saltano come salta Greta. Ah, ok. Ti racconto questo aneddoto perché fa capire l'importanza della tecnica di Greta. È chiaro che, come dicevo prima, il mio insegnamento tecnico è stato unico, io mi sono prefissato di insegnare a Greta a saltare. Perché molto spesso si allenano le capacità di atleta, come dicevo prima, quindi si allenano la forza, si allenano la velocità e la tecnica è una conseguenza di quello che tu alleni prima. E quindi il salto diventa istintivo. Io sono dell'idea che un atleta, un uomo, donna che sia, debba essere il padrone della propria tecnica. La maggior parte degli atleti non sanno quello che fanno. È istintivo il salto e basta. Nella loro mente non hanno l'idea dello salto. Greta è molto padrone del suo salto. Greta oggi manca più motore che tecnica. Dove lei ha un gap di motori, quindi di velocità o di forza, recupera con una parte tecnica. Ma è ovvio che la parte tecnica è la parte più difficile da insegnare e il resto delle capacità si allenano, si insegnano e c'è più margine, ovviamente. Tutto dopo la gara di velocità dei campionati italiani, Greta è stata avvicinata da Magri Martinez, che sappiamo tutti, che era la prima pista italiana al saponire, però è un cubano. Se è vicinata anche in Italia, ha detto, Greta, ti devo fare i complimenti. Io non ero presente. Ti devo fare i complimenti perché ti ho visto saltare e come te ho visto saltare soltanto tuo padre e noi cubani. Quindi, detto da lei, onestamente capisci che è un cubimento importante. Quindi significa che il mio insegnamento in fronte è importante e chi davvero ne capisce e mastica ovviamente di a te che il salto primo sia riuscito a percepire questa cosa. Quindi tecnicamente dico che siamo già un bel pezzo avanti, ma è giusto così perché per correre veloci bisogna saper correre bene. Per saltare lontano bisogna saper saltare bene, ma l'ultimo insegnamento è saper correre e saper saltare ovviamente. Poi mettiamo motore, mettiamo velocità, mettiamo forza, mettiamo tutto il resto, i tasselli per far sì che questo salto sia lunghi il più possibile, questo è chiaro. Qui dà anche immagini di miglioramenti, non troppo nella tecnica, ma in tutto il resto. Greta attualmente forse è la terresta più lenta che c'è, Greta probabilmente oggi è la terresta più debole che c'è, ma perché è un percorso mio che nasce da lontano con l'idea di insegnare Greta a saltare e poi alzare l'asticella mettendo su un motore. Beh diciamo che quello che io ho ipotizzato sulla tecnica, adesso io chiedo scusa ma non ho mai visto saltare Greta, nel senso che onestamente non ti ho mai visto saltare, a parte che se anche ti avessi visto non avrei le competenze per giudicare. Però facendolo da poco ho detto, boh magari, però quello che mi stai dicendo sicuramente vuol dire che è ancora più margine. Certo, è come vuol dire, è come visto che di velocità mi sembra che ne mastichi abbastanza, è come ricordare Filippo Torto qua appunto, voglio ricordare Filippo Torto, Filippo Torto, i primi anni che correva la sua tecnica forse era unica, perché Salvino ha fatto un nuovo lavoro eccezionale con Filippo e vedere Filippo era uno spettacolo. Poi negli anni ha corso anche veloce, 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 veloce. La stessa cosa salta più o meno nel salto. Greta è l'unica che salta più o meno come gli uomini, quindi con le braccia sincroni. Oggi le donne scambiano le gambe e scambiano le braccia, i loro balzi sono balzi alternati fondamentalmente, un po' scappati. Lei crea un malzo perché riesce ad andare, sostiene al balzo, utilizzando anche gli altri superiori, quindi le braccia, in un modo sincrono, come fanno gli uomini. Ma è l'unica, una delle pochissime, l'unica, una delle pochissime. Al mondo dove ce ne sono veramente pochi che riescono a saltare con la sua tecnica. Beh, direi che hai fatto ovviamente un'analisi di una completezza estrema e direi che veramente ci possiamo divertire dopo quello che hai detto, nel senso che sicuramente hai fatto un'analisi oggettiva, cioè non di parte. Io questo discorso lo faccio a lei da diversi anni. Questo perché è chiaro che Greta è una ragazza oggi, ovviamente, ma è stata una bambina. Vedere le sue cotagne, che comunque erano un bel pezzo avanti a lei, e noi eravamo sempre dietro al rincorso, non è stato facile nella sua crescita. Ma io dovevo fare così perché non potevo permettermi di spremere la mia atleta, anche se poi è mia figlia, per camminare a pari passo con le altre, con il rischio che poi a questa età lei tornasse indietro. Io adesso ho detto cosa, questa cosa, non ti preoccupare, io non so dove arriveremo, non so quando salterrai, non lo so, però arriveremo ad un certo punto che tu sarai competitiva come le altre. Porta pazienza, ma tu capisci benissimo che abbiamo dovuto combattere anche con delle idee, dei pensieri di una bambina che stava crescendo e che vedeva gli altri suoi cotane che andavano ai ratunni, lei non è mai stata chiamata ai ratunni, ovviamente, perché era poco competitiva, gli altri suoi cotane che partecipavano agli appuntamenti internazionali, ma ovviamente lei non aveva mai partecipato, neanche la FIDEL regionale, la FIDEL nazionale ha mai convocato a un ratunno, quindi capisci che è chiaro che lei ha a me a fianco, quindi io ho spiegato un pochino con questo nostro mondo e queste cose, ma il poco risultato o il non risultato implica anche delle conseguenze verso i ragazzi, quindi ci vuole anche una certa sensibilità di spiegare a loro il percorso di crescita o quello che abbiamo fatto noi. Adesso io non voglio dire che, devo stare attento a quello che dico, capisco, però posso dirti che Greta ha iniziato domenica a fare il fatto di rigolo e a crescere, sugli altri qualche dubbio ce l'ho. Sei stato chiarissimo e ancora una volta sono rimasto incantato da quello che tu dici, non ho problemi a dire che ho una stima da anni infinita di Fabrizio Donato, sia come atleta ma anche veramente come uomo e sono molto felice per Greta perché è nelle mani chiaramente della persona perfetta per raggiungere grandi risultati. Permetti di dire anche questa cosa, abbiamo sempre detto che il ruolo d'allenatore è molto simile a quello del genitore, ovviamente tutti abbiamo uno dei genitori e se c'è una cosa che i miei genitori mi hanno insegnato e mi hanno spiegato, che forse non esiste un genitore perfetto. Il genitore bravo è quel genitore che commette meno errori. Io questa cosa ne faccio un stile di vita. Io faccio un allenatore da pochissimo tempo, sono l'ultimo arrivato, è ovvio. L'allenatore bravo quindi non esiste, esiste l'allenatore che sbaglia di meno e quindi io in base alla mia esperienza, in base ai miei insegnamenti, in base a quello che mi hanno trasmesso, spero di fare il meno errore possibile con lei come con gli altri ragazzi. Quindi tu giustamente ti hai detto, ah è a fianco la persona giusta, io mi diminuisco da solo dicendomi che lo spero e spero di fare i pochi con Greta come spero di farne i pochi con gli altri ragazzi che avrebbero. Assolutamente. Vabbè, ho espresso un mio parere, insomma. Sì, grazie, grazie, grazie. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo, sicuramente ci rivedremo, anche perché io ogni volta che posso intervistare Fabrizio sono felice e sicuramente quando potrò intervistare Tres sarò felice. Magari vediamo dopo gli europei under 20, vediamo dai, magari ci rivediamo verso settembre-ottobre per vedere come sta partendo la preparazione. Vi ringrazio tantissimo. Per continuare il discorso europeo under 23, è chiaro che le nostre ambizioni sono alte e devono essere tali, ma comunque dobbiamo essere lucidi e dobbiamo essere razionali. Andiamo per fare una bella esperienza, la sua prima esperienza, andiamo per divertirci, andiamo per cercare di ripetere quello che abbiamo fatto, come hai detto tu giustamente prima, perché ripeto, hai detto parole giustissime, non sarà un dramma se le cose non dovessero andare come speriamo e sicuramente sarà una bella esperienza e cercheremo di ricavarne tanta esperienza, di cogliere il meglio e il massimo da questa bella avventura che ci aspetta. Perfetto, grazie veramente, grazie Greta, in bocca al lupo a tutto, grazie Fabrizio. Ciao. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao. Perfetto, con questa splendida intervista con Fabrizio e Greta Donato, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima e come al solito, buona atletica a tutti. Grazie a te, ciao a tutti.